via roberto prendiamo questa cosa finisce ad arrivare a me e poi a seguire tutti gli altri chi non si manda di musica a questa cosa si parla di musica si parla di musica siamo vicini siamo sull'orlo del sesto cerchio per chi si ricorda di che è con me Questa è un amico Matteo, ma questo ce l'appronterà questo senso Roberto Peveriniti. Tutto l'arte siamo in una piazza d'Italia, nella piazza di Sant'Acovoce, la basilica straordinaria e proprio inizialmente la basilica c'è una staglia di grande vita. Noi ci risentiremo nel corso del corso del corso del corso del corso del corso del corso dell'inizio della serata precedente, un corso dedicato alla sabina, a guittari, grazie. Dunque ci sentiamo più tardi da Firenze, da intanto avremo la pagina sportiva. Poi il corso del preliminare di Europa League, l'Inter affrontava la vincente della sfida tra Ayrton e Spala, lo sconto di Liga, i Croati hanno già vinto la gara puntata con la Liga di 2 a 0, che era andata contro lo sconto di Liga. Per quanto riguarda il calcio per campo, Mattia Lestrotti, la rosa, il nuovo attaccante della Liga potrebbe essere la nostra romantica di Pantezzi, Sera, sempre su vicino al Manchester United, mentre in Napoli c'è anche a Pazzaretti. per dire a Tour de France oggi i successi di Europa, Mattia Lestrotti, ciao Cassio!